il segnale 13 e 12 il puntale ancora non è arrivato ma sta sul santeprino immediatamente precedente è arrivato adesso 13 12 e 24 il puntale il resto ci passa dopo siamo nella penombra della croce riesco a vedere l'immagine del sole la mamma e la croce sono troppo alte quindi 13 12 e 24 il puntale e poi il resto se si sarà visto è stato ripreso ora il sole sta uscendo dalla penombra della croce una seconda quel più dei strumenti Sud procurata un secondo due 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 due